Alcune attività non possono fare gli ebrei e non possono essere in alcune... Gli ebrei abbiamo vissuto quell'attenzione. Io in Parlamento devo comemorare... Ma perché Lucano lo ha paragonato... Appunto, perché devo parlare dell'antisemitismo, è troppo facile, nel senso che chiunque... Vedo che qui tutto il pubblico è a sinistra, mi piace, tutto a sinistra. Ma che c'entra? Non abbiamo spazio a destra. È tanto come paragonarlo a Perlasca, Bianca, è la stessa cosa. La nostra bussola in questo momento è la disobbedienza civile. La legge è la legge e non si può rispettare, tantomeno se vuoi il sindaco. La legge è sacra, altrimenti diventi come le biere, altrimenti diventi come le biere. La legge è sacra, è l'unica cosa. La legge è sacra, 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 basta! La cambi, la cambi, la cambi, la cambi! BASTA! Se non ti va bene, la cambi, la legge in democrazia. La notte c'è questa... Rana. E rana, sulle un granocchio. La legge non è sacra, rana. La cambi in democrazia, la cambi se non ti piace. Vado, 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 vado! Voglio sentire le parolaccia e giù dietro questo schermo. Ab rhetoric su Anna, Abagle, Danós. La faccia non è sacra, non è falsici! Quando i bambini fanno... SON DOPOLI SON DOPOLI SON DOPOLI SON DOPOLI SON DOPOLI BASTOOOOO Sua visione Metricamente l'altro ha una sua visione l'ha portata a compimento A CANTO A CANTO A CANTO Ma perché mi devi interrompere questa testa? MA STAI SITO OCA MARCO STO PARLANDO IO OCA 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 OIO NALRAPO OCA Mario aspettate fallo SON DOPOLI Quest'o qui Qui... Rana non ha detto la legge è strana! Quei... Ma non ma... Ma non ma... Ma non ma non ha detto la legge strana! Vedo che qui tutto il pubblico è a sinistra... E però... Ci piace... Tutto a sinistra... Ma che c'entra? Non c'abbiamo spazio a destra! Beh... Ma perché mi avete niente... Ma stai sitto! Ma stai sitto! Sì, sto con il ragazzo di polscia